Comunque no, non farò entrare nessuno in questa diretta Che cazzo è Franco? No, no, raga, non lo conosco No, no, ma io lo so chi è, non lo so entrare No, no, io non lo conosco No, 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 fuori, fuori dai coglioni Fuori, fuori, via la mia diretta Via Io sto parlando di live chill, via Via, Franco, vattene il cazzo Via Ti voglio No, 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 amo Che è questo? Non lo so Verso l'infinito Andiamo sotto il ponte a bucarci Ecco, questa qua è dove Denamond passa le serate Vi voglio vedere Un po' il roggoredo di Genova Qua praticamente Denamond si spara di Denamond infatti lui dice di essere In vacanza con i suoi Ma in realtà è morto di overdose qua Un po' di siringhe Dai Complimenti Denamond Complimenti veramente Complimenti veramente Grazie Grazie Grazie.